Grazie. Buongiorno. E dei codici ecclesiastici. Ancora dopo l'apertura della libreria che risale al 1560 circa. Eppure l'apprezzamento degli esemplari straordinari e resi personali c'era stato sin dalla donazione del cardinale Besserione che risale al 1468. In seguito. In seguito. Queste liste sono oggi fondamentali per avere conoscenza di quanto fosse allora presente a Venezia e di ciò che poi circolò o fu acquisito. Si tratta tuttavia di elenchi scarni che mostrano come l'interesse di Morelli e comunque l'attenzione bibliografica del momento fosse rivolta soprattutto ai testi, alle edizioni importanti, all'opera dei primi stampatori. Ma c'è preziosa qualche rara annotazione riguardante la stampa su pergamena e la presenza di miniature. Abbiamo in particolare in sottili buste dell'archivio antico della biblioteca elenchi relativi alle ricognizioni del 1789 e 1790 conseguenti al decreto veneto dell'89 sulla protezione e incameramento dei beni. furono segnalati allora con liste sistematiche sotto l'edizione di migliori codici e più rari libri stampati gli incunaboli presenti in monasteri, conventi e comunità veneziani. Una seconda serie di elenchi che ripete i medesmi criteri di scelta riguarda i volumi che effettivamente furono portati alla biblioteca di San Marco. Nel 1811, al termine delle soppressioni francesi, sono relativi alle biblioteche di quelli che vengono chiamati frati, ossia dei religiosi in genere. Le notizie sono confluite nella catalogazione degli incunaboli marciani e nel MEI, tuttavia non è facile riconoscere gli esemplari acquisiti effettivamente dalla biblioteca in quelli esistenti oggi, discernendoli all'interno dei cataloghi successivi e lungo una storia che ha visto scelte fra i doppi, perdite e provenienze comunque non segnate sui volumi. Sappiamo bene comunque come la maggior parte delle miniature aveva già preso e prese nel frattempo la via del mercato. Molti anni fa ho approntato un rilevamento sistematico sugli incunaboli marciani per osservare gli interventi ulteriori rispetto alla fase di stampa. Questo mi permette oggi di offrire dei numeri, anche se veramente approssimativi e non poi ricontrollati, Dei circa 2.900 incunaboli marciani, quelli con aggiunte di colore o apposizione di stemmi sono conservati tra la serie delle segnature incunaboli, che contiene circa 1.146 volumi, e incunaboli veneti, circa 897. Fra gli incunaboli stampati fuori Venezia ne rilevavo 17 con corniciature miniate nel foglio di apertura, o solo le lettere di tipo fogliato, 19 con lettere decorate a filigrana, 53 con la decorazione a bianchi girari, e solamente 4 con lettere figurate almeno nel primo foglio, 13 con decorazioni a fiori, 12 con lettere a fondo compartito, 4 con freggi laterali fioriti. In tutto dunque poco più di un centinaio, definibile in qualche misura latamente come miniati. Altri 35 presentano la posizione delle sole lettere rubricate in rosso e azzurro. Meno precisamente avevo rilevato come 27 quelli con xilografie notevoli, e 14 con xilografie toccate con colore, come nel Breidenbach che stiamo vedendo del 1486, del quale non è nota la provenienza. Numeri modesti, dunque. Quanto agli incunaboli stampati a Venezia, la situazione è quasi analoga. Avevo preso appunti non per genere di miniatura, ma per importanza. Su circa 897 volumi, quelli con sole letterine aggiunte in rosso o azzurro assommano 82, più altri 32 con almeno la lettera di inizio decorata, mentre la pagina iniziale è miniata in 58 casi, compresi gli xilominiati che ho pubblicato a suo tempo, compresa la serie con lo stemma del priore Giochino Torriano, di cui ho dato conto, e compresi i pochi riferimenti al maestro del Plinio di Pico della Mirandola, pubblicati dall'Elean Armstrong. Ho invece segnato presenze xilografiche in 266 casi. L'esemplare più significativo per la figurazione, direi sostanzialmente l'unico illustrato, è il canzoniere di Petrarca di Vendelino d'Aspira del 1470. È l'Incunabolo Veneto 546, un caso fortunato perché lo stemma presente nella scena rivela la commettenza a Priuli e in seguito a posto lo zeno vi segna la sua proprietà settecentesca che costituisce anche la provenienza per la biblioteca. Le due pagine di inizio del canzoniere dei trionfi portano disegni la cui finezza ci consente di proporre un'inclusione nel catalogo della stagione veneta di Girolamo da Cremona, il miniatore dei corali della libreria Piccolomini di Siena, di cui Lelian ha fatto vedere prima un esemplare a Gotha. Fra gli incunaboli segnalabili per la presenza di interventi manuali si trovano quelli provenienti dall'ascito del cardinale Bessarione che costituiscono quindi poco meno di un quarto della segnatura incunaboli che abbiamo incluso tra i miniatri marciani. L'attività della stampa venne favorita, fu conosciuta e apprezzata da Bessarione che inserì i propri notevoli esemplari romani nella donazione a San Marco insieme ai codici importanti greci e latini. Osserveremo l'assoluto uniformità che corre tra l'intervento con inchiostri e colori sui codici prodotti dalla casa Bessarionea o comunque realizzati per il cardinale e le aggiunte che vennero eseguite a mano sugli incunaboli. Siamo favoriti in questo rilevamento dal fatto che l'elenco della donazione risalente al 1468 fu arricchito in seguito con i codici prodotti fino alla sua morte avvenuta tra il 17 e il 18 novembre 1472 o perlomeno fino al 20 aprile 1472 quando in vista della partenza per la missione in Francia egli ricovera a Urbino le casse con i libri che aveva trattenuto presso di sé insieme ai nuovi volumi acquisiti e realizzati. Stiamo vedendo le tabelle comparative degli inventari disposte secondo l'ordinamento delle voci appunto nell'elenco del 1474 con evidenziati gli incunaboli. Comparando gli inventari del 68, sia il cosiddetto Munus e del 1474, la seconda colonna che vedete, Lotte Laboschi calcola che i volumi nuovi siano stati circa 278. Tra questi circa 278 volumi nuovi ci sono anche gli incunaboli concentrati nelle casse numero 45, 46, 47 e 48 fra le 57 casse complessive contemplate appunto nell'inventario del 74. Le voci relative ai libri a stampa non si diversificano in nulla da quelle dei manoscritti e portano la sola qualificazione relativa alla materia, se di carta o di pergamena. L'inventario del 1524 mostra un contenuto redistribuito in casse diverse e organizzato largamente per materie. Le voci relative agli incunaboli sono meno accostate tra loro e notiamo come da questo momento, in una stagione in cui il libro a stampa è ormai diventato una presenza usuale in città e nelle biblioteche compare la nuova dizione di Impressus e Impressa a distinguere gli stampati dai manoscritti. Poco più tardi l'inventario marciano del 1543 presenta gli incunaboli distanziati fra loro entro i numeri, forse scaffalature e non nei banchi o plutei che contengono solo manoscritti ma mantiene sostanzialmente l'indicazione di stampato apposta nell'inventario marciano precedente. Al pari dei manoscritti, anche la maggior parte degli incunaboli bessarionei è dotata di ex libris, in stretta conformità. Nelle note di possesso, Bessarione compare con l'attributo di Cardinale Sabinense, una carica assunta nell'ottobre 1468. Si tratta di un elemento che accomuna gli incunaboli ai codici nuovi del Cardinale prodotti in quest'ultimo periodo. Elisabetta Sciarra ha trascritto le note di possesso apposte negli incunaboli bessarionei entro l'archivio dei possessori, il catalogo marciano in linea, che dà conto degli antichi possessori e delle provenienze conosciute. Dopo le realizzazioni fastose del quinquennio bolognese che corre dall'anno giubilare 1450 ai cinque anni successivi, l'interesse del Cardinale si mostra acuito verso la copia di testi importanti e verso l'acquisizione di codici antichi, mentre la finitura miniata si specializza in stretta conformità con l'uso romano del momento. Dunque, si tratta di interventi in buona parte ripetitivi, volti a completare le parti denotative con rubricazioni, segni paragrafali e lettere capitali, assegnare la pagina di inizio testo con un più o meno fastoso intervento di conneciatura intera o di fascia laterale, al fine di accompagnare lo stemma. L'arma costituisce un segno di proprietà ulteriore e parallelo rispetto all'ex libris manoscritto, non indispensabile quindi per disegnare il proprietario, ma ormai diventato un elemento figurativo, necessario all'interno dello schema decorativo nelle maggiori biblioteche personali del tempo. Nella Roma del momento, grazie alle committenze papali e della Curia, erano confluiti diversi miniatori e decoratori, tanto da Napoli quanto da Firenze e dal nord, sino a creare uno stile che potremmo definire umanistico romano internazionale, basato su poche varianti. Dell'apprezzamento di Bessarione per lo stile fiorentino, come affermato nella bottega di Vespasiano da Pisticci, è esempio l'ultima sua grande committenza in latino, che egli non vide mai perché fu consegnata da Vespasiano dopo la morte del cardinale, costituita dai fastosi dieci volumi membranace in folio, con l'opera di Agostino. Si tratta di modi già presenti nelle raccolte Bessarionee, nella magnifica ornamentazione che segna i due grandi volumi del girolamo membranaceo, stampato da Schweinheim e Pannartz nel 68. Fra queste realizzazioni tarde, nella biblioteca del cardinale, dominano i bianchi girari. Entrano nel suo gusto e generalmente in quello della curia romana a lungo gli anni Sessanta, nell'autorevole versione di Gioacchino de Gigantibus. A Roma, sede principe della vasta attività del miniatore napoletano e prima del 1468, a prima, è riferibile il suo raffinato livio latino 362. Vi compaiono esemplari i putti registem e gli uccelli che abitano i girali. Ornato, che sostanzialmente si ripete da parte del miniatore all'inizio degli anni Settanta per la seconda redazione della traduzione degli opuscoli a Bessarionei, nel fastoso manoscritto latino 135, che nelle tre pagine iniziali miniate porta le armi di Paolo II e del Bessarione a disegnarlo come l'esemplare destinato al Papa Barbo, mai consegnato, forse a causa della morte di Paolo II, nel luglio 1471. Raggruppiamo intorno a questi bianchi girari alcune delle miniature prodotte all'interno della casa Bessarionea durante quei quattro anni estremi che abbiamo circoscritto. Un freggio su tre lati segna l'inizio del codice greco 480, una miscellanea con scritti di opiano, teocrito, arato, vergata dai copisti della famiglia Bessarionea, Trivizia e Serosos. I due putti regi stemma col filo di corallo al collo e i pappagalli sono esemplati sulle opere di Gioacchino, mentre il tipo di girali con il tralcio dal quale si dipartono piccioli puntuti e dalle fioriture gonfie è quello romano del momento. Riconosciamo l'identica maniera nella cornice d'apertura di un altro codice, il greco 222, il commento di Simplicio sul De Cielo e sul De Anima aristotelici. Una decorazione del tutto simile compare negli incunaboli, in due incunaboli in particolare, due volumi delle vite parallele di Plutarco stampate da Hann nel 72. Analogo anche se minore, è l'ornato composto di bianchi girari romani nell'incunabolo 133, la geografia di Strabone impressa da Schweinheim e Pannertz, con data di stampa del 12 febbraio 1473. Data che è causa forse dell'assenza di questo incunabolo dalle ricerche ai lotti e laboschi. La data compare nel secondo volume dell'opera. Il primo volume dovrebbe essere approntato dunque a sei prima di tale momento. Se osservi come in questi ultimi codici e volumi a stampa, l'arma è messa in molti casi da un'unica mano, caratterizzata da un segno disegnativo sottile, che delinea in punta di penna le braccia sorreggenti la croce e le nappe del cappello cardinelezio, e il suo ricorrere in manoscritti greci e latini, databili fra il tardo 68 e 72 e in incunaboli, ci rende certi che si tratta di interventi in qualche modo sistematici. La nitidezza della stessa esecuzione si ritrova negli opera filosofica, copiati da Andronico Callisto nel greco 198 e nel senofonte greco 369, scritto dallo Zangaropulo, nei quali in ossequio al repertorio bizantino, accanto all'alloro che contiene l'arma e i bianchi girari degli usuali freggi con fioroni uscenti, compaiono fasce dal calligrafico motivo continuo d'accanto a palmette eseguito risparmio. Sono svariati gli ulteriori manoscritti nei quali interviene lo stesso calligrafo, aggiungendo lo stemma con regolarità su pagine dai freggi modesti per dimensione fasto, ma abili e rigorosamente eseguiti. Lo osserviamo in due manoscritti latini. Lo schema bianchi girari e l'autore nel capolettere risolvono la pagina d'inizio del Priscianus, latino 484, barre policrome dell'oro, costituiscono la parziale corniciatura per il latino De processione spiritus sancti di Bessarione nel latino 133. Una variante con motivi a cantacei gotici compare messa da un'unica mano in almeno un incunabolo e in una serie di manoscritti latini. Nella Farsalia stampata da Schweinem Pannerts nel 69, nel codice latino 346, un Eusebio che porta nella sottoscrizione la data del 30 ottobre 1469. Nel latino 303, opera di filosofia finita di scrivere il 25 gennaio del 70, dal medesimo copista del precedente. E ancora nella seconda parte del latino 288, Un super librum de causis di Tommaso d'Aquino, sottoscritta nel dicembre 70 presso la casa Bessarionea dei Santi dodici apostoli. A confermarci che il lavoro si svolge verosimilmente tutto ormai intorno alle stanze del cardinale, la decorazione della prima parte di quest'ultimo manoscritto, finito di scrivere nel marzo del 71 presso la stessa casa, è riferibile allo Pseudo Amidei, il miniatore responsabile dell'originale del Munus, nel latino 1414, che è certamente dal 1468. Il decoratore della casa del Bessarione a volte aggiunge l'arma entro spazi d'attesa lasciati in miniature eseguite da altri, così nella viva decorazione con Sentani e Augusto Bolognese, del Memmeranaceo 13bis, un cellio, di Schweinem e Pannarz, 1469, da accostare alle opere di Opuleio, Asclepio ed Ermete Trismegisto, stampate ancora da Schweinem e Pannarz nel 69, coi bianchi girari pausati da un clipeo figurato dal capo di Opuleio Re. Sono del resto più che rare le presenze figurative all'interno degli incunaboli Bessarionei. Un ulteriore breve profilo è inserito da un miniatore lombardo che compare singolarmente su queste pagine su un foglio pergamenaceo premesso al cartaceo in Cunaboli 4 e 34 nella compendiosa storia ispanica di Rodrigo Sanchez de Arevalo, Urihan, 1470. Per brevità potremmo forse riferire al decoratore che realizza l'arba Bessarionea con linee sottili la piena autorità delle pagine caratterizzate dalla presenza dello stemma entro lauro e da poche bulle o filamenti di filigrana instampati come il Tommaso d'Aquino nei due volumi che vediamo e il Plinio in Cunabolo 102 o ancora un Quintiliano tutti impressi da Schweinem e Pannarz nel 70 o ancora uno Svetonio nello stesso anno e dello stesso stampatore e anche presente nei codici latini e si vede ad esempio il latino 142 una raccolta informale di opuscoli e in una serie di almeno nove manoscritti greci segnamente per i codici greci venne curata la posizione di questo ulteriore ex libris in figura vi emerge evidente l'intensa attività di copia di codici belli che si svolse per il cardinale anche in questi ultimi anni una variante si mostra ad esempio nel Nicolaus de Lira no non ce l'ho Svanem e Pannarz del 71 dunque una assoluta similarità che all'albore della stampa e nella casa romana del Besserione rendeva virtualmente uguali i manoscritti e gli stampati entrambi prodotti di una stagione che desiderava l'opera veloce ripetuta dei copisti per risultati standardizzati e d'altra parte cominciava ad apprezzare la serialità ottenuta dai torchi ma curando di rendere personali i singoli esemplari grazie 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 grazie